Libero, allora le previsioni della partita? Le previsioni sono che c'è una grande tensione, non si fanno mai perché portano ierla e comunque sia solito fragile, vinca il migliore, senza nessun danno in campo, nessun problema, grande amicizia, vinca il migliore, ripeto, bella partita, speriamo, bel pubblico. Grazie, lo storio nuova invece? Lo storio nuova ancora, la tensione, devo dire la verità, deve venire, se ne che lo fissi all'albitro non so cosa dirgli, però speriamo che vi vada tutto bene, un bel arbitraggio, vinca il migliore. Grazie, ciao, 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 ciao Flipper, ciao. Mosca, vieni qui! Mosca, vieni qui! Grazie a tutti. 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 Una parola per questo Presidente. Tu dai. Questa vittoria è dedicata solo a una persona, Leonardo Cesarone. Grande. Bravo Iva, bravo, bravo. Grazie, ci saluta il Tigre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti hanno munito anche oggi, ti hanno munito anche oggi, eh? Ti hanno munito anche oggi, eh? E facci. E facci! Più indietro, più indietro, più indietro, più indietro. Cosa vuoi prendere? Oh ragazzi, è una rota! Oh ragazzi, è una rota! Grandi ragazzi! Siamo conosci! Hai fatto male te? Vedo che soppichi! Grande ragazzi! Una parola a questi ragazzi! Alcune! Va via! Bravi! 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 Cosa gli diciamo a questi ragazzi? Cosa gli vuoi dire? Siamo forti! Siamo forti! D? Siamo forti! Vai! Bravi! Siamo forti! Buongiorno! Bene! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un presidente, c'è solo un presidente. Un presidente, c'è solo un presidente. Un presidente, c'è solo un presidente. Un presidente, c'è solo un presidente.